ciao a tutti e bentornati ancora qui sempre su speedy news puntuali con nuovi video nuove informazioni ma se prima non sei iscritto al mio canale ti esorto a farlo quanto prima iscriviti ora non aspettare ulteriormente lasciami un bel like ricordati di cliccare sempre sulla campanellina grazie grazie a tutti per il seguito ed il sostegno nuovo assegno di inclusione sono sempre di più le vostre domande al riguardo è tutto pronto a che punto siamo ecco cerchiamo di capire insieme non solo a che punto siamo ma a chi spetta e a quanto ammonta viste le vostre tante curiosità in merito vediamo insieme quali sono le ultimissime news riepilogo per chi non lo sapesse l'assegno di inclusione è il nuovo sostegno per coloro in difficoltà economiche che a partire dal primo di gennaio 2024 sarà erogato in sostituzione del reddito di cittadinanza verrà erogato esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia almeno un componente minore o con disabilità o anziano con più di 60 anni oppure questa è la grande novità che inizialmente non era prevista inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sono socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione quindi in sostanza almeno un membro se c'è un membro preso in carico dai servizi sociali si ha diritto all'assegno di inclusione questo ormai è stato reso noto e chiarito a tutti gli effetti l'importo dell'assegno di inclusione 2024 varierà in base alla composizione del nucleo familiare e al valore del reddito i6 l'importo può essere minimo di minimo 480 euro annui e massimo 6.000 euro annui moltiplicati ovviamente per la scala di equivalenza a cui si possono aggiungere al massimo altri 3.360 euro annui per chi vive in affitto che spettano al nucleo che abbia al suo interno un minore oppure un disabile o un over 60 o una persona presa in carico dai servizi sociali invece arriva ad un massimo anno di 7.560 euro moltiplicati sempre per la scala di equivalenza a cui si possono aggiungere al massimo altri 1.800 euro annui per chi vive in affitto per quei nuclei che sono invece composti nel seguente modo soltanto persone di età pari o superiori a 67 anni o persone pari di età pari o superiore a 67 anni ed altri familiari tutti in condizioni di grave disabilità o di non autosufficienza quindi l'importo massimo per essere chiari di 7.560 euro annui più 1.800 euro di contributo d'affitto per chi vive in affitto spetta soltanto a quei nuclei familiari in cui all'interno hanno tutti 67 anni o di più oppure condizioni di grave disabilità o non autosufficienza però questo deve riguardare tutti i membri non almeno uno ok quindi questa è la condizione per prendere il massimo avere tutti 67 o più anni oppure se inferiori come età avere una disabilità grave o una condizione di non autosufficienza in questo caso per averne diritto oltre all'isenum superiore a 9.360 euro il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui sempre moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza molti di voi mi chiedono ma come si calcola il parametro della scala di equivalenza più volte vi ho detto di andare a verificare sul sito del ministero del lavoro ad ogni modo qui brevemente vi spiego come funziona il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per ogni componente ed è aumentato fino ad un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti il nucleo familiare in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza viene dato uno 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni 0,40 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizioni di grave disagio psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati della pubblica amministrazione 0,15 per ciascun minore di età fino a due anni 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo quindi questi sono i punteggi da aggiungere al parametro 1 però vi ricordo che si può arrivare ad un massimo di 2,2 o 2,3 2,3 soltanto in presenza di componenti in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza quindi questi sono i calcoli che voi dovete fare per andare a scoprire quello che sarà l'importo che vi spetterà a partire dal primo gennaio 2024 non sappiamo ancora quando sarà possibile effettivamente fare la domanda i comuni sono in attesa delle indicazioni da parte dell'inps intanto però inps e ministero e ministro rassicurano che tutto è pronto per partire con la massima celerità ce l'auguriamo tutti quanti per oggi è tutto io vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video arrivederci a tutti grazie